è stato un polifemo completamente diverso da tutti gli altri, mi dovete scusare per una puntata così rivoluzionaria, voi mi avete conosciuto come Luigi Abate che fa le battaglie ambientali contro la pubblica amministrazione, anche Luigi Abate è un campione d'Italia come noi, dicevo al momento dei saluti, mi hanno conosciuto tutti come una persona che parla di Ilva, di problemi seri, ma Luigi Abate è anche un cuore, io sono un tifoso ed è bello stare insieme agli amici e vivere il calcio come momento di gioia, non come odio, perché gli avversari, le altre squadre sono degli avversari, non sono dei nemici, ma il calcio è aggregazione e fratellanza e non c'è nulla di male per qualche ora, forse a essere più bambini e a divertirsi, perché il calcio è vita, il calcio è amicizia, io devo ringraziare questo magnifico club, questi club che mi hanno dato il sorriso, magnifici al plurale, che mi hanno dato il sorriso e mi fanno credere che ci sono tante persone belle, mi fermo qui se no poi mi scappa la lacrimuccia. Grazie.